Benvenuti al primo talent show dedicato agli aspiranti piloti. Il suo scenario è la pista. I protagonisti sono 24. Aspiranti piloti selezionati tra migliaia di candidati. Tre conduttori. Maestri nel creare problemi. Una giuria spietata. Sei diverse squadre guidate da un coach. E un solo vincitore. Saranno pronti? Pronti a partire? Pronti a vincere la sfida? Pronti per entrare a far parte di una dura scuola di guida? Pronti a confrontarsi con i giudici? Coach? I disturbatori? Pronti ad affrontare prove di abilità? Pronti per essere puniti? O pronti per vincere? In genere il vincitore è il pilota più veloce. Questa volta vincerà il migliore. Make it your race.